L'ortodossia accade questa la serata e siamo veramente felici ed emozionati d'avere, quando si dice un pezzo di storia della musica sembra una cosa che si è passata, però la musica indipendente è una pagina importantissima, l'avete scritta voi, Francesco Magnelli e Massimo Zamboni, con noi che rappresentano diciamo tanta della gente che è di là in Second Stage, intanto benvenuti. Grazie, grazie. C'era molta eccitazione durante il sound, cioè che è una cosa che non accade sempre e credo che l'abbiate percepita anche voi, è vero? Io ero molto tranquillo in realtà. No, no, da parte nostra che ascoltavamo. Sì, sì, ero più teso a rimettere insieme degli accordi che da un po' di tempo non suonavo più. Ecco, questa cosa è molto bella, stiamo venuti qua a risuonare, a farci risentire degli accordi che era tanto che non sentivamo, ma ne abbiamo tanta voglia di sentirli. Massimo, come ti è venuta in mente questo progetto? Ma è una cosa che ha maturato pian piano in questi ultimi due o tre anni, insomma, da quando ho cominciato con Angela Baraldi a rimpossessarmi un po' di quella che era stata la mia storia musicale. Non avrei neanche lontanamente pensato allora di poter fare questo concerto oggi qua. E quindi ne sono particolarmente contento, l'idea di suonare ancora con Francesco, con Gianni, con Giorgio, con gli altri, ma anche riuscire a rivedere Renate, riuscire a incontrare Enriquez di Banda Bardot. E' una soddisfazione, ma al di là del bello della serata è proprio l'idea che tutto un mondo che gravitava attorno a noi, al quale noi abbiamo contribuito in maniera anche molto forte, credo. E lì è vicino, è a portata di mano, è sorridente, ha voglia di suonare le stesse canzoni. Questo ti dà l'idea che, insomma, bene, qualcosa che avevamo fatto ha un senso ancora oggi. Direi proprio di sì. Ecco, Francesco, cosa ti ha convinto? Dice a te, cosa ti ha convinto quando ti sei trovato, diciamo, imbarcato in questa avventura? Cosa ti ha fatto capire che era da fare, da seguire questa strada? La prima cosa che mi ha fatto pensare, che è bello poter suonare con Massimo, Gianni e Giorgio, è il fatto che questi anni hanno dato tutti una solidità diversa dalla fine dei CSI. Tutti abbiamo fatto un nostro percorso, per cui oggi, insomma, ritrovarsi dopo tutti questi anni, ci ritroviamo, come ti posso dire, non con l'angoscia di dover dimostrare qualcosa o di doversi rimettere insieme per forza per fare dei concerti, se no non sappiamo come fare. C'è solamente la gioia completa, insomma, di suonare e di risuonare queste canzoni insieme. Per quello che riguarda me è stata una fase di passaggio, nel senso che prima abbiamo ricominciato io, Massimo e Gianni a fare il Fantasma dell'Opera, che era una cosa, una sonorizzazione del 93 fatta con Codemondo. Da lì ne abbiamo fatti già due o tre e Massimo, e poi quando ci siamo rivisti, ci ha invitato a questa sua idea, insomma, di rimettere insieme tutte queste bellissime canzoni. Ecco, Francesco, naturalmente si è tradito, no? Perché ha detto, ha dato anche l'uomo di Giovanni. Ecco, allora io ti faccio la doppia domanda, perché qua non è che insomma ci prendiamo in giro le cose che mi piace, ti ricordi quando ci siamo incontrati anche radiofonicamente, abbiamo sempre parlato chiaramente delle cose, mi piace farlo con te. Questo è un progetto che non c'entra niente con Giovanni o Giovanni ci potrebbe stare? Prima domanda. E seconda domanda, io ho letto come tutti, penso, l'intervista sul fatto di quest'anno, eccetera, poi dopo non c'è da dire che uno sceglie la sua strada, il suo percorso e va bene così, insomma. Ma insomma, diciamo che noi facciamo musica, prima viviamo e poi facciamo musica. Questa credo che sia la cifra di quello che abbiamo sempre fatto, penso di poter parlare anche per Francesco, no? Si vive, in base alla tua vita tu proponi musica, scrittura, quello che è. Allora se nella nostra vita concreta ci fosse un rivecinamento con Giovanni, allora sarebbe molto facile per lui e per noi tornare a suonare assieme. Se questa cosa non avviene nella nostra vita, non c'è motivo di farlo su un palco che è lo specchio amplificato della tua vita. E quindi sostanzialmente questo è il percorso da seguire. Ma io non mi augurerei né una cosa né l'altra, direi che la cosa migliore è vivere e lasciare vivere per noi, per tutti quanti. E poi quello che succede è probabilmente la cosa migliore, non andiamo a collezionare delle riunioni posticce che non hanno senso. E questo infatti si percepiva prima di ascoltarvi al soundcheck ed è stata una cosa molto potente. Io ho visto anche, io ormai ho 40 anni, no? Porcaccia la miseria, c'è 41 in realtà. Ma ho visto più giovani di me, anche qualcuno più grandicello, avere tutti comunque un'attenzione, una percezione che stava succedendo qualcosa di magico. E quando accade qualcosa di magico in palcoscenico è un attimo, bisogna saperlo cogliere. Prima eravate veramente in tanti, ma ci sono stati dei momenti che io credo che se ci fosse stato ancora più pubblico, c'è stato anche qualche applauso, vi avrebbe chiesto di continuare, di fare chissà che cosa. Questo io credo sia anche bello, no? Queste canzoni sono vive, voglio dire, reinterpretate, ma vive. Sì, noi non facciamo musica, appunto, come diceva Massimo, il nostro fare musica è fuori dal concetto di mestiere. Cioè, nel senso, credo che se abbiamo deciso di risuonare alcune canzoni è perché vogliamo anche risentire quell'emozione dopo tanti anni di poterle rifare dal vivo. Tutto il resto, appunto, è un contorno che non ci riguarda, a parte appunto, insomma, il rapporto poi con le persone che vengono ad ascoltare e che speriamo che sentano quello che sentiamo noi quando siamo su un palco insieme, insomma, ecco. Ti dico, sono poche le volte che siamo risaliti su un palco, io, intanto con Giorgio è la prima volta, dal 2003. Giorgio Canali, stiamo parlando di lui. Con Giorgio Canali. Con Massimo e con Gianni abbiamo fatto tre sonorizzazioni, per cui, a parte il fatto di tornare a casa, abbiamo suonato insieme per tantissimo tempo, per cui avere questa sensazione di tornare a casa, in qualche modo, c'è tutto da riscoprire ancora. Per cui c'è anche queste canzoni qua, che comunque fanno parte della nostra storia, se le rifacciamo su un palco oggi, insomma, acquistano un altro tipo di valore anche per noi. Certo. Ecco, è una domanda ovvia, devo farvela. Siccome siete stati, insomma, voi la musica avete fatto tutto, avete anche prodotto, avete stati vicini, avete fatto crescere piccole realtà, eccetera. Cosa vedete l'interessante oggi e cosa c'è di nuovo secondo te? Secondo voi? Ma io non ascolto quasi niente, Alessandro Graziano è una persona che mi piace molto. Lui lo sa, non lo dico qua perché c'è questa sera e quindi glielo ho già detto in altre occasioni. Ma Vasco, Brondi, insomma, a mano io veramente ascolto troppo a poca musica per poter rispondere a questo. Una cosa che mi colpisce è che tutte le persone che hanno meno di 25 anni in questo paese non sanno che cosa vuol dire vivere senza Berlusconi. La loro vita è sempre trascorsa sotto il nome di Berlusconi. Io, Francesco, tu e qualche altro, sappiamo che esiste un'altra maniera di vivere anche, no? L'altra vita è possibile. La cosa che mi colpisce è che magari poche persone che hanno meno di 25 anni hanno la forza, il coraggio, anche la lungimiranza di capire che è un'altra vita, esistono anche altre forme di vita possibili, oltre a questa. E sarebbe bello se riuscissero a esprimerle, a darle anche a noi. No, io ho colto una vena di, non polemica, però di critica costruttiva. Invece tu cosa dici, Francesco? Sulle band di oggi, il panorama musicale? No, io credo che come succede, insomma, nella storia, è successo negli anni 90 appunto che i gruppi, alcuni si sono ispirati a quello che arrivava da fuori. Era il primo periodo del trip-hop, dell'hip-hop e del dub, per cui tanti gruppi si sono ispirati poi a quel tipo di musica. Negli anni 2000 c'è un ritorno del cantautorato, con questi giovani cantautori che si stanno facendo forza e nuovi gruppi stanno venendo fuori. Per quello che mi riguarda è quello che riesco ad ascoltare così. Ci sono, come sempre, delle cose interessanti e alcune no. Cioè, nel senso, come normalmente succede. Personalmente, invece, io sono da un'altra parte, perché da una decina di anni, diciamo, arrangio suono e arrangio le musiche della tradizione del mondo, del bacino del Mediterraneo, per cui sono molto interessato a quello, ecco. Ecco, l'ortodosia cade, che stiamo in chiusura. L'ortodosia cade si trasformerà anche in un progetto, magari, non so, di canzoni nuove, un disco. Boh, mi sto spingendo troppo in là. Sì, stai spingendo troppo in là perché non lo sappiamo. Noi, insomma, siamo qua questa sera a suonare. Forse faremo qualche concerto in settembre ancora, ma poi veramente non sappiamo niente. Ma è sempre stato così. In realtà, non siamo mai riusciti a costruire un progetto. Avvamo i piani quinquennali, no, come i CCCP. Essendo filosovietici, al quarto anno il piano quinquennale crollava, come è sempre stato nella realtà. E quindi abbiamo smesso di farli, sostanzialmente. Mi sembra un salto. No, perché poi, le poche volte, ci siamo trovati intorno a un tavolo per decidere cosa dovevo fare, una strategia, andato sempre in vacca, tutto. Quindi viviamo alla giornata, che è un modo che, sinceramente, io sposo volentieri. Non so i quanti qua, ma credo tanti. C'è anche Giorgio Canale là, se vuoi venire a fare un saluto al volo, se no, no, grandissimo, abbiamo capito. Noi ringraziamo Francesco Magnelli, Massimo Zamboni, l'Orto del Sì accade. Puoi seguire anche in streaming dal nostro sito Sherwood, perché noi siamo esagerati, proprio come... e lo offriamo anche a quelli, perché sono tanti sicuramente che avranno curiosità di sentirvi. Vi aspettiamo qua, comunque il concerto inizia alle 22. Beh, anticipaci almeno qualcosa di quello che farete, cioè da dove attingere... No, ciao. Va bene, grazie, alla grande, a dopo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.